Io lo dico perché c'è qualche ascoltatore che sbaglia sicuramente, che dice insomma che i giudici mi stanno dando una mano in tutti questi casi, non ultimo quello che ho citato io, però sbagliano gli ascoltatori sicuramente. Ma io guardo, io non credo che sia così, io non credo che siano i giudici che decidano le sorti di un governo, un governo che avanti si lavora bene, è evidente che se fa come sta facendo adesso, taglia il fondo sanitario, taglia la scuola, taglia su tutta, aumenta le tasse e poi saranno i cittadini a decidere che questo governo sta lavorando meno. Scusate che adesso sia il Partito Democratico a dire che la sanità viene tagliata dopo che i governatori di sinistra, anche quelli di destra, ma principalmente quelli di sinistra hanno distrutto la sanità pubblica nel nostro paese. Ma volete leggere i nomi e le dichiarazioni di Chiamparino, di Serracchiani, di Rossi che gioivano quando gli ospedali pubblici venivano chiusi? Smettetela di fare propaganda, la destra chiude gli ospedali pubblici, ma voi avete fatto un disastro, vergognatevi a dire questo, vergognatevi, il PNRR europeo vede la sanità all'ultimo posto, è addirittura preceduto dalla differenza di genere, cosa ce ne prega della differenza di genere? Se viene partito la sanità pubblica, vergognatevi che lo scuola il vero.